Ristate? Ora vado a giocare, va bene? Ora vi faccio vedere. Venite, dietro a me. Venite, venite. Io mi chiamo Riccardo Santini Mormori, perché mi riconosce. Guardate. Perché mi fai la foto? Guardate. Allora, ho un bel cappello, me l'ha fatta la mia nonna annunziata. Adesso ho fatto il testello. Va bene? Non mi guardi, non mi riprendi. Non mi guardi, devo fare anche i cartelli. Ma perché mi fai la foto? Perché mi fai la foto. Guardate. 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 e poi su youtube cosa devo scrivere? Alessandro Santini?